Un nigeriano di 24 anni, pluri pregiudicato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. La polizia, nel corso di una perquisizione nell'appartamento di Via della Rondine, che divide con altri connazionali, ha trovato 275 grammi di eroina divisa in 27 ovuli e 5.620 euro in contanti, sicuramente frutto dell'attività di spaccio. La droga è stata trovata nascosta in alcuni mobili della soffitta, in mezzo ai vestiti. Il nord africano è stato bloccato nella mattina di ieri dagli uomini della squadra mobili al termine di un'indagine sullo smercio di droga in piazza della stazione, in piazza San Marco, zone diventate punto nevralgico per l'acquisto di stupefacenti e costantemente tenute sotto controllo dalle forze dell'ordine. Il nigeriano, conosciuto con il nome di Tata, è una vecchia conoscenza della polizia di Prato, che lo aveva già arrestato a aprile del 2011 per il possesso di oltre un chilo di eroina e già prima, nel 2008, era finito in carcere a Caserta, sempre per spaccio di eroina. Arrestato per la terza volta in meno di quattro mesi, un marocchino di 39 anni senza fissa di mora e già sottoposto all'obbligo di firma, è stato fermato nel pomeriggio di ieri dagli agenti di una volante che lo hanno notato in via convenevole, mentre in sella una bicicletta scambiava qualcosa con un altro uomo. Appena si è accorto della presenza della polizia, il marocchino si è disfatto di un piccolo involucro, ma il gesto non è passato inosservato, l'involucro è stato recuperato all'interno poco più di un grammo di hashish. Già il 10 maggio e di nuovo il 30 agosto, il 39enne era stato fermato sempre per cessione di stupefacente e sottoposto all'obbligo di firma perché, non avendo fissa di mora, non è stato possibile metterlo agli arresti domiciliari.